Anticipazione una vita trama puntate venerdì 12 novembre 2021. Mentre passano del tempo insieme Annabelle raggiunge camino e Maite è l'informa che Marcos e Felicia hanno deciso di sposarsi. La Passamar è al settimo cielo in compagnia della sua amata pittrice. Velasco avendo ormai capito definitivamente che Noveva stava cercando di avvelenarlo la aggredisce tentando di soffocarla. La Salmeron si difende in tutti i modi e riesce a liberarsi della stretta dell'avvocato. Camino chiede Annabelle di non dire a nessuno che Maite è tornata e le ovviamente ha consente. La Passamar decide di risolvere alcune cose che ha in sospeso ad Acacias per poi partire alla volta di Parigi. José chiede a Asinto di organizzare una trappola con il dottor Puerta. Nel frattempo l'ex guitarrista prende accordi con la guardia civile e tutti insieme riescono a incastrare il famoso medico arrestandolo. Velita non riesce a recuperare la voce e così annulla le performance che erano previste per l'imminenza. Felipe crede a quello che Enoveva gli racconta e la bacia appassionatamente. Liberto è furioso per ciò che sta accadendo mentre Ramon vuole solo che l'avvocato sappia che non è stato lui ad assassinare Celia. Felipe trova però un fazzoletto con le iniziali di Marzia. Grazie. Grazie a tutti.